Salve ragazzi, più utile, vi è Nisanto Fatto Prosto, oggi vi faccio vedere come trasferire le vostre cose su un file di sabotaggio nuovo oppure nella modalità master, perché come sappiamo quando iniziamo la modalità master dobbiamo per forza fare il nuovo gioco quindi oggi vi spiego come portarci dietro tutto quanto, o quasi innanzitutto contate tutte le cose importanti che avete, nel mio caso 8 poi contate solo il cibo che volete trasferire, contate solo i materiali che volete trasferire contate tutte le armature invendibili che avete, mentre per quello che riguarda le armature vendibili contate solo quelle che volete trasferire per gli scudi ragazzi è un po' particolare perché potete portarne un massimo di 4 quindi tutti gli altri scartateli gli archi potete portarne un massimo di 5 e le armi un massimo di 8 quindi tutto il resto scartatelo poi contate anche, mi raccomando, tutti gli slot per le frecce che avete nel mio caso 6 una volta che abbiamo calcolato questo numero, cosa ci dobbiamo fare? questo è il numero di blocchi di spazio che dobbiamo generare e li generiamo con degli archi multifreccia e almeno una freccia elettrica prendiamo l'arco in mano facciamo scarta, usa, uscendo dal menu e rientrando ok, una volta che il link compare così prendiamo 4 oggetti diversi e togliamo l'arco dalla mano poi vediamo gli oggetti che teniamo in mano prendiamo un quinto oggetto, lo buttiamo per terra e lo raccogliamo perfetto, abbiamo generato 4 blocchi quindi voi continuate a farne fino a che non ne fate il numero necessario ora, io non lo farò perché a me non mi serve però voi fatelo, mi raccomando ovviamente state attenti a non vendere i materiali che volete portare una volta fatti tutti quanti i blocchi necessari raccogliete questi archi solo se li volete trasferire poi ragazzi dovete mangiare tutto il cibo che non volete portare vendere tutti i materiali che non volete portare vendere le armature che non volete portare la bolsa vi potrebbe apparire vuota ma state tranquille perché è normale ho detto potrebbe ovviamente scartare tutti gli scudi e rimanere solo con 4 scartare gli archi e rimanere solo con 5 e scartare le armi e rimanere con 8 armi una volta fatto ragazzi poi tornate allo schermo del titolo poi possiamo fare tranquillamente una nuova partita o giochi in modalità master sempre facendo nuova partita però guardate perché la cosa importante è fare il nuovo gioco ok prendiamo la tavoletta shaker ora ragazzi salviamo quindi salviamo manualmente poi chiudiamo il gioco e lo riapriamo ricarichiamo il nostro sabotaggio manuale e come vedete ragazzi mi sono portato dietro alcuni oggetti importanti allora io siccome ho fatto solo 4 blocchi di spazio come vedete appunto mi sono portato solamente 4 oggetti ma state tranquilli perché nel vostro caso vi sarete portati tutto ok poi guardate che figo ho già la furia di urbosa quella è attiva eh e guardate ho anche la paravela visto e anche la moneta del teletrasporto ecco qua vedete e ho anche già parecchi semi kurogu bene ragazzi il video termina qua spero che vi sia piaciuto e o vi sia stato utile in quel caso fatemelo sapere con un like, un iscrizione, un commento e seguitemi anche su facebook a noi ci vediamo presto un nuovo video quindi ciao ragazzi città ciao Grazie.